dov'è a vedere brava si 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 l'ho visto eccolo eccolo qui bravissima molto brava brava sei si sti premi tutti dai bricca dove è lì dai dai fammi vedere dov'è dove è dai bricca dai brava dove è lì a vedere dov'è hai bisogno di una mano aspetta 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 piano ah questo qua è grande brava la bricca eccolo bricca eccolo qui brava bravissima vieni il premiolino è buono questo premiolino ci piace brava dai ok vai andiamo brava dai dai no no si c'è anche tex ma vieni qua bricca dai che stavi lavorando bene dove bricca dove c'è qualcosa lì a vedere dove a vedere a vedere dov'è lì dov'è dov'è dammi ah brava ma sei carinissima ma che carina questa cagnolina bellissima bellissima Grazie a tutti.